Aveva tentato di estorcere 300.000 euro alla nota famiglia di imprenditori nel mondo della moda loro piana, sfruttando la possibilità di accedere ai sistemi dell'Agenzia delle Entrate. Così il GIP di Torino nei giorni scorsi ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un funzionario che lavorava negli uffici di Vercelli. Accusato di accesso abusivo a sistema informatico telematico e tentata estorsione. Le indagini sono partite dopo la denuncia della moglie del defunto imprenditore Sergio Loro Piana che aveva ricevuto una richiesta anonima di 300.000 euro con la minaccia di divulgare informazioni riservate su una vertenza tra la società e l'Agenzia delle Entrate. L'uomo aveva chiesto inoltre che la somma fosse pagata sotto forma di 800 sterline d'oro. Il funzionario aveva effettuato alcune interrogazioni nella banca dati sterpico dell'Agenzia delle Entrate senza però aver ricevuto alcun incarico formale. Ma non solo, aveva raccolto informazioni anche su una vera e propria classifica degli imprenditori più facoltosi della provincia di Vercelli, tra cui proprio la moglie e i familiari dell'imprenditore defunto. La famiglia Loro Piana a quel punto aveva deciso di denunciare e rendere pubblico il fatto.